Conosci le caratteristiche dei fondi obbligazionari convertibili? Bene, te li spiego in due minuti. Poco conosciuti e poco utilizzati dai risparmiatori, sono dei fondi che secondo me possono dare delle grandi soddisfazioni in certe fasi dei mercati finanziari, in particolare durante i ribassi. Gli ho scoperti definitivamente negli ultimi anni, durante gli ultimi ribassi, molto violenti e veloci, quando c'è una certa paura a comprare azioni, perché temi che il ribasso possa continuare per mesi, se non addirittura anni. Allora, in questo senso, il fondo obbligazionario convertibile è una buona alternativa. La correlazione con le azioni è molto alta, anche perché la particolarità delle obbligazioni convertibili è quella di non restituire il capitale a scadenza, ma di convertirlo in azioni, secondo dei criteri abbastanza articolati e complessi, non sempre di facile intuizione. Questo è il principale motivo per cui non consiglio mai di comprare le obbligazioni convertibili direttamente, perché sono complesse da scegliere. Meglio delegare la scelta a un gestore, che andrà lui a cogliere le opportunità che ci sono sul mercato. Nella ripresa dei mercati dopo il ribasso, i fondi obbligazionari convertibili hanno rendimenti molto simili alle azioni, per poi perdere velocità nei mesi successivi. Per cui il mio consiglio è quello di prendere le obbligazioni convertibili, cavalcare quel momento e, quando la situazione è più chiara, o switchare sulle azioni o su fondi obbligazionari non convertibili. In questo senso non considero i fondi obbligazionari convertibili come un investimento di lungo periodo. Piuttosto mi viene da dire che sono nel lungo periodo dei validi strumenti finanziari in una logica attiva del portafoglio.